Per la povera Liudmila Fintanaru non c'è stato nulla da fare. Mentre percorriva una stradina sterrata nell'entroterra di Jesolo, che costeggia un canale, ha perso il controllo della sua auto e ci è finita dentro. La scena raccapricciante l'hanno notata dei passanti, che hanno visto la macchina capovolta all'interno del fosso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo le telefonate al centralino del 115. Per estrarla dall'Audi ci sono voluti sommozzatori che hanno dovuto spaccare il finestrino e piegare lo sportello per riportarla a garla. La tragedia si è consumata poco prima dell'ora di pranzo. La donna, una moldava residente a Musile di Piave, con la sua auto si mette su via Leo Maggiore, che da Jesolo Paese porta le valli da Pesca. Il manto stradale non è dei migliori, un percorso dove bisogna prestare la massima attenzione per l'assenza di asfalto. La Fintanaru potrebbe aver perso il controllo per un eccesso di velocità, ma al vaglio dei vigili della polizia locale, anche un malore improvviso. Ma sarà solo l'autopsia stabilire cosa sia avvenuto alla 36enne. In un primo momento i testimoni avevano accennato alla possibilità che con lei in macchina ci fosse un uomo, ma dall'ispezione effettuata dai sommozzatori non è stato trovato nessun corpo. L'incidente è avvenuto nella prima giornata da Bollino Nero per rientrare nelle grandi città. Molte code si sono registrate su tutti i tratti autostradali del Veneto, con 7 chilometri di coda fra il nodo A4 a 3 in direzione Venezia. Ma si registrano anche flussi elevatissimi di transiti per spostarsi nelle località balneari come Bibione e Jesolo. Si tratta per la maggior parte di turisti austriaci e tedeschi che scelgono la fine di agosto e i primi giorni del mese di settembre per le loro vacanze.